Benvenuti ragazzi, torno con i proviamo. Questo è Greyland. Dunque siamo un uccellino. Questi sono l'energia. Le cagate servono a distruggere le cose. Quello che c'è di nero ci uccide. Scusate se non sono partito proprio dall'inizio ma avevo iniziato a giocare evidentemente. Basta sfiorare il nero che muore. Sto giocando con il padre? Dobbiamo andare a salvare il nostro compagno che è stato preso in gara. L'ho rischiato eh. Dietro di noi c'è come un ambiente di guerra. Una guerra con sia soldati che macchie. L'ho lasciato lì perché toglie energia. Ogni cagata toglie energia. Vedete poi non ce ne lascia recuperare tantissimo. Ecco. Ecco. Faccio. Di sotto riesco a fermarmi dietro. Sì Non lo capisco però perché Cioè che però mi fa distruggere queste cose per poi Tendere l'energia a lui Ecco qui vediamo perché è un rischio Ecco mi serviva un po' di nascita Puoi uscire adesso più per ciro E' difficile? No non l'avevo finita Questa merda Questa merda Questa merda Un drone maledetto Il terzo è difficile perché me lo spara più da vicino Sto a prenderlo lontano Sono dei soldati Ecco la No Lontano Con lontano ... ... Grazie a tutti 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 Dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e poi Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti